Ragazzi della Repubblica Ceca mi hanno fatto accorgere che c'è un cane morto qui all'interno. Entriamo? Avvicinati. Mi dispiace farvi riprendere queste immagini, so che sono immagini brutte ma le dovete vedere. Guardate che vergogna che hanno fatto. Hanno ucciso l'animale, bastardi, non è giusto fare queste cose e non è giusto anche fare finta di niente. Guardate, guardate quel povero cane che fine ha fatto. Ha attaccato una corda, la puzza si è da morire. Vergognoso, vergognoso. Qua ci troviamo sotto la ferrovia, sotto la ferrovia in una parte nascosta dagli alberi e guardate che cosa abbiamo trovato. Una brutta sorpresa. Riprendi, riprendi ancora. Mi dispiace ma il cattivo odore è forte. Portiamo, portiamo. Riprendi tutto per Dresch. Riprendi e faccio vedere il punto dove... Così qualcuno fa qualche segnalazione. Grazie ai ragazzi della Repubblica Sera che hanno fatto accogli di questo esempio. Riprendi. Riprendi. Gira che puoi vedere il punto dove sei più. Riprendi il punto dove sei più. Ovo è un animale. Stacca, 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 stacca.